Gli ospiti la attaccano con questo tiro da lontano di Andrea Cesaracchi, dovrà correre Porto Torres, altro tiro dalla media questa volta per Andrea Pizzalis, lasciando spazio alla recessione nel pitturato di Bacchi, il pallone fuori dall'arca, provate comunque il modo di tirare qua in inizio, il tiro da lontanissimo a bersaglio di Alessandro Pisano, in questo campionato più avanti ci siamo per i più precisi qua, si estende Luca Bugioni a zona, prova a muovere questo avversario, questo tiro dalla media di Francesco Paroduo, ancora pericolosa qui per Pizzalis, poi Pisano lo fa saltare, Sebone Pizzo trova una tripla un po' fortunosa, poi Orto ancora per il capitano, la tripla del capitano, la panchina, il portatore si prende cura del suo numero 22, qua c'è spazio per l'uscita di Matteo Pizzo, va da Pacifico, poi Pioltino a spalla canessa, sta là fuori bene, contro Petretto non arriva l'aiuto difensivo, è capitato tra le mani di Capitan Pisano sul blocco di Michele Petretto duro che si apre fuori dalla linea, e il tiro da tre punti, tripla pesantissima per la messa a segno da Michele Petretto. Pettino che va poi a ribloccare per favorire l'uscita di Peragallo che controlla in punta, però non è per Pacifico che prova a battere Pisano dal palleggio, sta bene con lui il capitano ma è semplicemente più bravo qua il numero 6 a Dinamo du Milano. Peragallo contro Pias, ancora bersaglio sulle spalle nel tentativo di ricucire definitivamente, lo strappo va, tiro dalla lunga, la rovesciata qua, blocco duro di Pioltino ma regolare, falla di Pacifico, ancora per Peragallo, per rimbalzo di Pugione a provare, a dare un attimo di vita a Porto Torres, la tripla di Pizzalis. Ci va da Piso, arriva il fallo di Pisano. Peragallo, Pisano mette apposta i piedi, tripla sul secondo ferro, rimbalzo di Piso che poi fa a prendersi il fallo, 2 su 2 di Piso, 5 lunghezze di vantaggio. Suona la sirena al palassimulo, la Dinamo du Milano centra la sesta, vittoria con Sepurtino.